Ciao, sono Elena di Obloomy e in questo video ti farò vedere come misurare la temperatura sulla fronte con il tuo dispositivo Obloomy Tab. La misurazione sulla fronte va fatta con particolare attenzione in quanto fattori esterni come il make up, il sudore o la temperatura dell'ambiente possono alterare significativamente il risultato. Come vedrai è molto semplice, però c'è un segreto che è quello di misurare sull'arteria temporale che si trova nella zona delle tempie. Per prima assicurati che la punta del dispositivo sia ben pulita, questo è molto importante, se così non fosse procedi con la sua pulizia con le nostre salviette che trovi nel kit Obloomy Tab. Cerca di mantenerti sulla zona delle tempie, creando dei movimenti circolari e individuando l'arteria temporale. Questo movimento circolare ti permetterà di trovare il punto migliore per la misurazione, in questo modo. Non è necessario fare troppa pressione, l'ideale è mantenere un contatto lieve. Altri consigli che possono esserti d'aiuto per realizzare una misurazione nel miglior modo possibile. Per primo assicurati che la fronte sia asciutta e pulita, fattori esterni come il make up, il sudore o la temperatura dell'ambiente possono alterare il risultato in modo significante. Verifica che il dispositivo non sia troppo freddo in modo tale da evitare shock termico, ideale sarebbe mantenere il dispositivo nell'ambiente in cui la misurazione viene effettuata. Come ultimo assicurati che non vi siano forti cambi di temperatura che possono essere dati da ventilatore, da cammino oppure dall'aria condizionata durante la misurazione. Questo è tutto, ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.